Il problema della sicurezza Nel mondo della sanità Dopo il caso della psichiatra Uccisa a Pisa da uno suo paziente Si solleva l'intera categoria E anche a Salerno L'Ordine dei Medici ha voluto dare un segnale Sottoscrivendo un protocollo di intesa questa mattina Aumentare la capacità comunicativa Strumento fondamentale per riavvicinare il paziente Al sanitario curante Potenziare le risorse E lavorare nella direzione di migliorare La qualità dei risultati assistenziali E la sintesi della ricetta Inviata in un documento Al ministro della sanità Orazio Schillaci Al ministro dell'interno Matteo Piantedosi Al presidente della regione Campania Vincenzo De Luca E ai manager dell'asla di Salerno E dell'ospedale Ruggi d'Aragona di Salerno Gennaro Sosto e Vincenzo D'Amato Dalle professioni sanitarie Della provincia di Salerno Nel giorno in cui In molte piazze d'Italia Medici ed operatori sanitari Terranno una fiaccolata Per ricordare La psichiatra Barbara Capovani Uccisa barbaramente Da un suo ex paziente Dinanzi al reparto di Santa Chiara Dell'Università di Pisa L'intera categoria Sottoposta quotidianamente A tanti pericoli Di violenze fisiche Ancora più verbali Troppe volte sottaciute Questa mattina Si è riunita Presso la sede Dell'Ordine dei Medici E degli Odontoiatri Della provincia di Salerno Preseduto dal dottor Giovanni D'Angelo Dove in maniera congiunta Hanno sottoscritto Un documento Per richiamare L'attenzione Delle massime autorità Ma anche dei cittadini Sulle condizioni di insicurezza Sul luogo di lavoro Che di fatto incide Sulla qualità Delle prestazioni sanitarie Ai cittadini Ai pazienti Un problema oramai Che investe tutti i sanitari A conferma Potrei dirvi Che attualmente Se facciamo Una percentuale Dei problemi Di ordine Di violenza Sono sicuramente Gli infermieri Quelli soprattutto Che sono addetti All'attività di pronto soccorso Che hanno Il maggior numero Di problematiche Noi invieremo Questo documento A tutte le autorità Competenti È un documento Che cercherà Innanzitutto Di fare Io dico breve Perché l'analisi Se si volesse fare L'analisi Dei momenti Scatenanti La violenza È un'analisi Che porterebbe via Veramente Non pochi minuti Ne poche ore Ma giorni Troverete Delle indicazioni Che possono essere Indicazioni di massima La prima Delle quale È quella Di monitorizzare Un po' più attentamente Quelle che sono Le problematiche Generate Dalle violenze Perché le violenze Che avvengono Sono di gran lunga Superiore A quelle segnalate Ma per varie motivazioni Che specificheremo Ma che voi potete Intuire Se non altro Quando uno Ha una famiglia A carico Ed incontra Una persona Non certo Gradita Probabilmente Pensa a proteggere Più la famiglia Che a denunciare In alcuni presidi Ospedalieri Sono stati potenziati I punti di polizia I drappelli Si sollecita Da parte vostra Anche un'attività Di prevenzione Per scongiurare Violenze simili Si si Questa era la prevenzione Che doveva esserci Già prima E che c'era Nel passato C'erano i drappelli Di polizia Nel passato Nei vari ospedali Non dico in tutti Ma quasi in tutti Oggi ovviamente Visto che la riduzione I problemi economici Eccetera Il drappello Miracolosamente È scomparso E praticamente Abbiamo trasformato Anche il medico E i sanitari In drappelli Quindi Che accolgono La protesta Il caso della psichiatra Uccisa Dimostra due cose Uno Che i servizi Per le dipendenze Come quelli di salute mentale Sono tra i servizi Più esposti Perché le richieste Dei pazienti A parte lo specifico Caso Insomma Di una situazione Psicopatologica Sono richieste Che hanno a che fare Anche con il risvolto Non solo Assistenziale Sanitario Ma anche Socioassistenziale A cui Ovviamente Non ci sono Delle risposte Si dovrebbe Lavorare Sui baggi di salute Sulla cooperazione Col sociale Con l'integrazione Quindi sicuramente Le espressioni di violenze Sono legate Oltre che alla violenza Specifica Anche ad altre sfaccettature Non di meno Quelle che sono Anche le situazioni Che vedono Questi servizi Io sono anche Il direttore Di un servizio Per le dipendenze Anche un ruolo Di controllo Misura alternative Alla detenzione Controllo Da parte Dei tribunali Tribunali Dei minori Quindi Il sanitario Psicologo Medico Ma anche L'infermiere Che è il primo Esposto Sono in un doppio ruolo Ruolo clinico Ma anche Ruolo di controllo Un altro aspetto Che è stato messo In luce Durante l'incontro Che si è svolto Alla sede Dell'ordine dei medici E che il problema Sicurezza Naturalmente Non riguarda Soltanto i camici bianchi Ma un po' Tutte le categorie Che lavorano Nel mondo Della sanità Sentiamo proprio Gli appelli Dei diversi rappresentanti Degli ordini Presenti Alla sottoscrizione Del protocollo Stamani Sono qui oggi Sicuramente Per portare voce Del mio ordine Professionale Ed unirci al dolore Che ha colpito la famiglia Della dottoressa Barbara Capovani E ci uniamo Questa sera Anche alla fiaccolata Che è prevista In tutta Italia In tutte le piazze d'Italia Proprio per ricordare La sua professionalità Il suo coraggio E la sua dedizione Per il lavoro Che questa fiaccolata Che queste luci Possano sicuramente Illuminare la ragione Ma soprattutto Riscaldare il cuore Di tutti E dare un messaggio Forte Di potenziare Un po' La comunicazione E l'alleanza Tra il sistema Sanitario E i cittadini Non c'è Professione immune Tutto il comparto Sanitario Diciamo Subisce Questo grave Problema Ci sono delle peculiarità Rispetto Al lavoro Che viene svolto Nell'ambito sanitario Nella medicina veterinaria Alcune peculiarità Sono legate al fatto Che soprattutto Nelle aziende sanitarie locali Il lavoro Di controllo Che svolgono I medici veterinari Si interfaccia Con una problematica Che è Quella Economico Commerciale Quindi a volte Le pressioni Le minacce Verbali E fisiche Che spesso I nostri colleghi Sono costretti A sopportare Sono legate Ad interessi Anche forti Meno dietro al banco Anzi I propri farmacisti Hanno subito Anche Nei tempi precedenti Quando è andato In onda Il covid-19 Di tutto di più Quindi Possiamo immaginare Prima cosa Noi siamo consapevoli Che la povera dottoressa Ha dato la vita Purtroppo I suoi figli Hanno detto Nostra madre È come un supereroe È vero Ma sono tutti Supereroi Tutti quelli Che stanno Nella sanità Perché oggi È una situazione Davvero drammatica Sicuramente Un importante Vorrei porre l'accento Sui fabbisogni Proprio della popolazione Perché questo Rapporto di fiducia Con noi sanitari È venuto a mancare Proprio perché Manca un dialogo Con le istituzioni Che chiediamo Puntualmente ogni volta E quindi È chiaro che oggi Le persone sono stanche Sono stanche Perché non hanno Una giusta comunicazione Dei servizi Non sanno a chi rivolgersi E quindi Oggi siamo qui Per chiedere anche Alle istituzioni Un servizio importante E che è quello Di creare servizi A dimensione umana Fatta sui bisogni Di una popolazione Che ormai Ce ne ha tanti Di problemi È solo questo Con molta semplicità E per fare questo Bisogna puntare Molto alle risorse E puntare Su servizi territoriali E parliamo ora Di un'altra iniziativa Che si è svolta Questa mattina A Salerno Promossa da Paperboy Un convegno E un murales Dedicato al giornalista Giancarlo Siani Le persone per scegliere Devono sapere Devono conoscere i fatti Allora Quello che un giornalista Giornalista Dovrebbe fare È questo Informare È il pensiero Di Giancarlo Siani Quello scritto sul murale Inaugurato questa mattina Nel piazzale Del centro sociale Di Pastena Realizzato dal Writer McKenny All'anagrafe Stefano Santoro Insieme con Giuseppe De Martino In arte Amed Stamani In occasione Della giornata Della memoria Dei giornalisti Uccisi Dalla criminalità Mafiosa E dal terrorismo Indetta nel 2008 Dall'Unione nazionale Dei cronisti italiani La redazione Di Paperboy Ha deciso Di ricordare La figura Di Giancarlo Siani Cronista napoletano Ucciso per mano Della Camorra Il 23 settembre Del 1985 A soli 26 anni Giancarlo 38 anni fa Ci lasciava Ma la cosa più bella È vedere Che questo murale È un simbolo di riscatto Giancarlo dopo 38 anni Dalla sua uccisione Continua a parlare Continua a parlare Giovani Qui ci sono tanti giovani Che da oggi in poi Conosceranno la sua storia Noi oggi doniamo La storia di Giancarlo A voi A questo luogo A questo posto Che vi va per sempre Grazie a questa bellissima opera Qua dietro Un momento di riflessione Sui temi della legalità E della libertà di stampa Senza tralasciare il coraggio Di un giovane Che amava il proprio mestiere Ed è stato assassinato Mentre inseguiva Nient'altro che la verità Un'occasione per lasciare Un'occasione per lasciare una piccola Ma significativa traccia Grazie alla fusione Tra arte e informazione Per far sì che la stella polare Di Giancarlo brilli anche a Salerno Un modo per inaugurare gli eventi Da avvicinamento al decennale Di Paperboy Il progetto giornalistico sociale Nato nel 2013 Dedicato ad aspiranti redattori Con disabilità Questa mattina Salerno Ha ricordato Giancarlo Siani Alla presenza tra gli altri Del nipote Gian Mario Siani Presidente della fondazione Del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli Di Ottavio Lucarelli Giornalista e membro Del comitato scientifico Della fondazione Polis Carlo Noviello Presidente del villaggio di Esteban Cooperativa sociale Della testata giornalistica Paperboy Nel corso del convegno Dal titolo Giancarlo Siani La sua penna E la sua deontologia Ci piaceva molto questa frase Che è poi citata Nel film Fortapascio Che ricorda La figura di Giancarlo E ci piaceva Perché poi dava senso Ancora più senso Alla figura del giornalista E a quello che noi facciamo Con la redazione di Paperboy Che è poi La vera protagonista di oggi Perché fondamentalmente Questo è un evento che è nato È il primo evento Di un percorso Che ci accompagnerà Fino a dicembre Quando la redazione di Paperboy Compirà dieci anni E noi nel nostro piccolo Abbiamo cercato di fare Giornalisti Giornalisti Abbiamo cercato di farlo Nel mondo della disabilità Mettendo su questa bella redazione Composta da ragazzi Appunto con delle difficoltà Che però sono diventati giornalisti E speriamo diventino Giornalisti Giornalisti E questa mattina Con il sindaco presente All'evento C'è stata occasione Per ritornare A fare un commento Su come Salerno Si sta preparando Al Giro d'Italia Specificando anche Un po' quello che sarà Il percorso Che attraverserà Il lungomare Colombo In senso inverso Cioè da sud verso nord Il Giro d'Italia Proverrà da Battipaglia C'è però una gaffa Che ha fatto Proprio Chi organizza il giro Perché citando I punti di interesse Da visitare a Salerno Ha dimenticato Di menzionare San Pietro a corte Mentre vengono citati I giardini della Minerva Che attualmente Sono invece Chiusi Per un progetto Di riqualificazione La tappa del Giro d'Italia Che interesserà La città di Salerno Il giorno 10 maggio Partirà da Atripalda E in provincia di Salerno Approderà da Oliveto Citra Poi Battipaglia Dove attraverserà La Litorania In località Spineta Ed entrerà Nei confini Del comune capoluogo All'altezza Del villaggio del sole Da questo momento La strada Che costeggia il mare Quindi via Lende Via lungomare Colombo Diventeranno A senso inverso Rispetto al normale Percorso di marcia Per consentire Ai ciclisti La volata finale Fino alla tappa In piazza della Concordia Dove l'arrivo è atteso Dopo 171 km Intorno alle 17 In omaggio Al passaggio Del Giro d'Italia A Salerno Si colorerà di rosa Donando a tutti i partecipanti Una maglietta Con i colori Del Giro d'Italia Anche pedalando Per la città La tradizionale manifestazione Dedicata ai ciclisti Che si terrà Il 7 maggio La corsa rosa Arriva anche A Palazzo Genovese Che ospiterà Da lunedì 8 maggio Una mostra Di cimeli ciclistici Ispirati al campionissimo Fausto Coppi E la presentazione Di un libro Dedicato agli arrivi In campagna Del Giro d'Italia Ecco il commento Del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli Sull'organizzazione Sì abbiamo dovuto Fare una serie Di provvedimenti Concordati Con questura e prefettura Insieme ai nostri uomini Della protezione civile E la polizia municipale Per fare in modo Che questa sia Una festa dello sport Che torna a Salerno Dopo anni di assenza Sarà una giornata Memorabile Il Giro d'Italia Ha delle sue valenze Anche epiche Se volete Il ciclismo E uno sport eroico Sarebbe dire E tutto questo Darà un'immagine Della nostra città A livello nazionale Della quale Tenderemo di fare Che so Unica nota negativa Margine dell'interesse Turistico Che il passaggio Del Giro d'Italia Catturerà Per il Comune Capoluogo Il non aver visto Citato Tra le note Turistiche Segnalate Proprio dal sito Ufficiale Del Giro d'Italia La presenza Nel territorio Del Comune Capoluogo Del complesso monumentale Di San Pietro a Corte Un vero e proprio Gioiello Per quanto riguarda La storia della città Ed intanto Proprio a proposito Di turismo Mentre è atteso Per il 5 maggio L'approdo Alla stazione marittima Della nave Della MSC C'è un dato Che allarma Il mondo Del commercio Del turismo Ed è La difficoltà A reperire Manodopera Lo dice Un sondaggio SVG Mentre non si ferma L'affrusso Di turisti Via Crociera Salerno Oggi con la Mainshift Il prossimo 5 maggio A bordo Della MSC Continua a registrarsi Anche nel nostro Territorio provinciale Un'emergenza Lavoro Nel mondo Del commercio E del turismo Il 36% Delle imprese Segnala Di aver avuto Quest'anno Difficoltà A reperire Personale Difficoltà Che in molti casi Non sono state Superate Rischiano Di causare Un buco Nella stagione Estiva Ormella E porte Per la quale Saranno necessari Fino a 100.000 Lavoratori In più A dirlo E confe Esercenti Sulla base Di un sondaggio Somministrato Alle imprese Dei due Comparti Con SVG In occasione Delle celebrazioni Del primo maggio Secondo i numeri A frenare Il lavoro Nei due Comparti E la carenza Di candidati Fattore indicato Dal 28% Delle attività Con difficoltà Di reperimento Una carenza Che le imprese Attribuiscono Ragionalità Come precarietà Almeno per il 61% Delle persone Che hanno risposto Al sondaggio Ma soprattutto Sui giovani Pesa l'impegno Nei giorni Festivi E prefestivi E l'idea Che nel commercio E nel turismo Ci sia poca possibilità Di crescita professionale A rendere difficile Il reperimento Di addetti E soprattutto Il mismatch Ovvero Il disallineamento Tra offerte E domanda Di lavoro Quasi un'impresa Con problemi Di personale Su due Il 46% Indica infatti Come impedimento Principale Proprio La mancanza Di candidati Con una preparazione Adeguata Fattore minore Quello economico Solo il 19% Segnala di non aver assunto Perché non si è trovato D'accordo Eppure però Per superare i problemi Il 43% Delle imprese Deve far leva Proprio Sull'offerta economica O sotto forma Di incentivo O retribuzione Maggiore Rispetto al Contratto nazionale Di riferimento Il 19% Si è rivolto Ad un'agenzia Di lavoro Privata Il 31% Non è riuscito Comunque A trovare Gli addetti E per far fronte Alla carenza Progetta Di tagliare I servizi Offerti Ai clienti Confesercenti Propone anche Una serie Di strategie E Plaude Alle iniziative Previste dal governo Con il DL lavoro Bene il taglio Del cuneo fiscale Ma sarebbe opportuno Detassare pure I futuri aumenti Contrattuali Prioritario però E agire sulle politiche Attive Non si può lasciare L'incontro Tra domande Offerta Iniziativa Privata E passaparola Tra le proposte Restano inadeguati Decleti flussi Con click day Che avvengono sempre A stagione iniziata Va in oltre Rivista Anche La formazione Dove va ripristinato Un rapporto stabile Tra scuola E lavoro E inoltre Necessario Facilitare La formazione Dei lavoratori Nei paesi di origine Consentendo L'ingresso Dei soggetti Già formati Fuori Dalle quote Stabilite Andiamo adesso Alla cronaca Partiamo Da Vallo Della Lucania Dove i carabinieri Hanno eseguito Un'operazione Di controllo Identificando Auto E vetture Controllo Straordinario Del territorio E protezione Dell'ambiente Nel Cilento Negli ultimi giorni Una vasta operazione Dei carabinieri Che ha consentito Di identificare 540 persone L'operazione È stata condotta Dei carabinieri Della compagnia Di Vallo Della Lucania Che ha istituito Un reparto Territoriale Con l'obiettivo Con l'obiettivo Di svolgere Un servizio Straordinario Di controllo Dinamico Sul territorio Finalizzato Alla prevenzione E repressione Di reati In genere L'operazione È stata condotta In più giorni In diverse fasce orarie Nei comuni cilentani Impiegando Un dispositivo Composto Da 110 pattuglie E 220 militari Grazie all'impegno Dei carabinieri Sono stati controllati 440 veicoli Identificate 540 persone Inoltre Sono state impartite 30 sanzioni Per violazioni Al codice della strada I controlli Dei carabinieri Guidati Dal tenente Colonnello Santepichi Non si sono limitati Al rispetto Delle norme Del codice Della strada Ma si sono estesi Anche al controllo E alla vigilanza Del patrimonio naturale Faunistico E paesaggistico Nonché al contrasto Del degrado ambientale Dello smaltimento Illecito di rifiuti E dell'antibracconaggio A questo scopo Sono stati effettuati Ulteriori controlli Di specialità Dai carabinieri Del reparto forestale Parco Di Vallo Della Lucania L'impegno Dei carabinieri Ha permesso Di garantire Maggiore sicurezza E tranquillità Ai cittadini Della zona La presenza costante Delle forze Dell'ordine Ha infatti scoraggiato I potenziali malviventi E ha permesso Di individuare Eventuali situazioni Di pericolo Prima che potessero Sfociare In atti criminosi E la guardia di finanza Invece A sala consiglina Ha individuato E posto Sotto sequestro 70 bombole Di gpl Per una capacità Di accumulo Di quasi 1100 kg Che erano Illecitamente Detenute Per la commercializzazione L'inchiesta Svolta proprio Nell'ambito Del contrasto A queste forme Di illegalità Ha consentito Di individuare In un negozio Di ferramenta Nel Vallo di Diano Stoccate Offerte al pubblico Delle bombole Di gas Che sono state Sequestrate Per alcune irregolarità In fatto Di sicurezza E in fatto Di autorizzazioni Per la detenzione Del prodotto Il titolare Del negozio E anche risultato Sprovvisto Del certificato Antincendio L'imprenditore È stato segnalato Alla procura Della Repubblica E dovrà rispondere Di omessa Denuncia Di materiale Esplodente Il giorno dopo L'ondata di maltempo Che ha messo in ginocchio In modo particolare Nel Cilento Il comune di Pisciotta Si contano i danni Pisciotta in ginocchio Il maltempo Ha creato notevoli danni Nel comune costiero In queste immagini Il risveglio drammatico Di ieri mattina Frane Smottamenti Fiumi in piena Sembrano Scenario di guerra Ma è invece La realtà Che ci riporta Quanto accaduto Ieri mattina Seguito delle abbondanti Piogge Cadute in pochi minuti Ma che hanno provocato Ingenti danni Per oggi Il sindaco Ettore Liguori Ha disposto La chiusura Delle scuole cittadine Si tornerà in classe Già domani Tempi più lunghi Invece Per la riapertura Della strada Di Rizzico Chiusa Dopo una nuova frana Che si è verificata Ieri mattina La strada Resta chiusa Anche ai mezzi Di soccorso Chiuso dunque Ogni collegamento Diretto Tra Pisciotta E Ascea Con enormi disagi Per le comunità Locali Non c'è un tratto Di strada Nel comune Di Pisciotta Che non è stato Colpito dal maltempo Ovunque Frane smottamenti L'ufficio tecnico È già al lavoro Per disporre I primi interventi Di messa in sicurezza Ma è chiaro Che c'è tanto Da lavorare Una situazione Di emergenza Che preoccupa Non poco La comunità locale Una ferita profonda Per una comunità Che vive di turismo Le frane Sono arrivate Anche a pochi passi Da alcune strutture turistiche E in questi giorni A Pisciotta Erano già arrivati I primi turisti In occasione Del ponte di maggio Anche loro Si sono trovati Alle prese Con i danni Del maltempo Da Caprioli A Pisciotta Marina A Marina di Campagna Questa mattina Per la comunità Di Pisciotta È il momento Della conta Dei danni Abbiamo visto Prima della pubblicità Le brutte immagini Dei danni causati Dal maltempo Nel Cilento Ci sono danni Che ancora Fanno piangere Una ferita Che ancora Non si è rimarginata Dopo 25 anni A Sarno La tragica alluvione Del 98 Ricordata Con una serie Di eventi Nei comuni Che furono colpiti Tra le tante iniziative Anche una mostra fotografica La linea del fango 15 fotografie emblematiche Oltre a diversi disegni Che furono realizzati Dai bambini Delle scuole elementari Nei mesi successivi Al tragico evento Dai quali si evince Il forte impatto emotivo Sulla popolazione È stata inaugurata Ieri a Sarno La linea del fango La mostra Allestita nell'ambito Delle manifestazioni Per il 25esimo anniversario Della tragedia Del 5 maggio 1998 L'esposizione Nei locali Del sottotetto Del palazzo Di Villa Lanzara Del balzo Sarà visitabile Fino all'11 giugno Dalle 8.30 Alle 13.30 Le immagini Offrono diversi spunti Di riflessione Su quanto accaduto Per cogliere Le diverse chiavi Di lettura Dell'evento Con spunti Sulle conseguenze Sul territorio Il dramma E la risposta E la risposta Della risposta Delle istituzioni Che abbiamo scelto Abbiamo scelto Con una particolare Attenzione Noi non abbiamo Proposto Una mostra Antologica Dell'evento Tragico Abbiamo voluto Scegliere Soltando 15 Fotografie Ma che In qualche modo Potessero essere Emblematiche Della tragedia E dare Uno spunto Di riflessione In più Abbiamo inserito All'interno Del percorso I disegni Dei bambini Che fecero Da lì a pochi mesi E secondo me È quella Come dire L'angolo Più dolente Di tutta la mostra Ed ora Spazio come di consueto Alla nostra rubrica Dedicata a segnalarvi Degli appuntamenti Cineforum Al Cinemateatro San Demetrio Di Via Dalmazia Salerno Dove quest'oggi È in programma Il film di Riccardo Milani Con Antonio Albanese E Sonia Bergamasco Grazie ragazzi Tra gli spettacoli Alle ore 17 Alle 19.30 E alle 22 Ingresso intero 7 euro Ridotto 5 euro Il giovedì Non festivo Ingresso unico 5 euro Per informazioni 089 22 20489 www.cineteatrosandemetrio.it Andiamo Ti divertirai Te lo prometto Ci sono le previsioni Del tempo E poi la parte Del nostro Tg Dedicata all'informazione Sportiva In collaborazione con Ristorante Eureka I sapori del mare Previsioni per domani Al mattino Sulle coste Parzialmente nuvoloso Con schiarite prevalenti In montagna Cielo nuvoloso Con solo qualche breve schiarita Nel pomeriggio Sulle coste Schiarite alternate A nubi sparse In montagna Parzialmente nuvoloso Con schiarite prevalenti Previsioni del tempo Fornite da 3B Medio Ed è tutto Grazie per aver seguito Il nostro appuntamento Con l'informazione Vi ricordo che Questa edizione È visibile anche Sui nostri canali social Sul sito www.tvoggisalerno.it Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it E clicca su TV Oggi On Demand Grazie per aver guardato il nostro sito